Oggi sono felice di essere qua, tutti noi stiamo nuovamente e costantemente testimoniando l'importanza del ricordo e della memoria che per me è la spina dorsale dell'umanità e dell'evoluzione del genere umano. Senza ricordo e senza memoria non c'è crescita e soprattutto non c'è unione tra i popoli, quindi stiamo dando una grandissima testimonianza, Rimini sta dando un grandissimo esempio di evoluzione e di ricordo.